Un cordiale saluto a tutte e tutti come di consueto. Questa settimana ho iniziato a mostrare i video riguardanti il giro del mondo con la barca a vela con i video la regata oceanica 2022-2023 sulla Terra Piatta e i fusi orari nascondono la Terra Piatta col velista mondiale Hervé Ribonix. Penso sia utile visualizzarli se ancora non l'aveste fatto. Il relatore di oggi è ancora il velista mondiale Hervé Ribonix che ha partecipato alla regata del 1993-1994 attorno al mondo with Brad Round che prima portava il nome Volvo Race dove sono scomparsi anche dei navigatori. Trovo interessante la sua spiegazione di come i manipolatori hanno usato i fusi orari. Oggi ci spiega anche il sotterfugio della declinazione magnetica per trascondere la Terra Piana e che la declinazione magnetica in realtà non esiste. Queste informazioni sono veramente utili per cercare di mappare correttamente la Terra Piana. Spero vi piaccia la presentazione di Hervé. La cosa interessante è che ha navigato attorno al mondo ma non sul falso globo bensì sulla Terra Piana e stazionaria. Qui vediamo la lista dei partecipanti. Questa è l'imbarcazione sulla quale si trovava. Si chiamava Merit Cup e queste sono alcune fotografie di Hervé. Questa che vedete è la mappa della rotta iniziata e finita a Southampton a sud-est dell'Inghilterra. Sulla base della sua esperienza e delle sue ricerche Hervé ha alcune idee affascinanti su come hanno falsificato il globo e alcune informazioni importanti su come dovrebbe essere una vera mappa della Terra Piana. Spero che queste informazioni instillino a chi è interessato a fare ulteriori indagini. Ciao a tutti. Scusate in anticipo per il mio inglese. Cercherò di fare del mio meglio. Se volete potete registrare la presentazione e se pensate che più tardi non è pertinente la potete eliminare o se vi piace sentitevi liberi di fare quello che volete con la presentazione. L'argomento è che non c'è declinazione magnetica sulla Terra Piana. Molto velocemente. La narrativa ufficiale della declinazione magnetica La declinazione magnetica è ufficialmente un campo magnetico intorno al globo e per quanto ci interessa questo campo magnetico devia le bussole o come vedremo non funziona. Come funziona? Su questa mappa qui abbiamo tutte le declinazioni magnetiche ufficiali della Terra. Dove è di color blu la declinazione magnetica è ovest e dove è rosso la declinazione magnetica è est. La linea verde qui e qui la declinazione magnetica è zero e le altre linee qui c'è zero e ci sono dieci qui venti, trenta gradi di declinazione magnetica il blu è ovest e il rosso è est. In pratica viene applicato quando sei sulla barca e vuoi andare per esempio dal punto A al punto B per esempio prendiamo questo se vuoi andare dall'isola di Capoverde a Recife in Brasile immaginiamo che questa sia una carta nautica quindi prima prendi la tua carta nautica e i notifichi che aggiunta devi fare dal capo dell'isola dell'isola Capoverde a Recife in Brasile ok quindi questa direzione questa rotta sulla mappa è di 180 gradi sud e la declinazione magnetica la bussola è suddivisa in 360 gradi lo zero è a nord ok 90 gradi est 180 è sud e 270 è ovest in questo caso devi andare a sud in realtà non è esattamente sud ma giusto per semplificare per capire il sistema quindi prendi la tua carta e rilevi la rotta la direzione per andare a Recife diciamo che è 180 dopo devi aggiungere o sottrarre la declinazione magnetica ok in quest'area qui qui vedete che dall'isola di Capoverde qui a Recife qui come vedete è un pochino a ovest ma diciamo solo diciamo che è a sud solo per capire quindi inizia a 10 gradi ovest e finisce a circa 20 gradi ok diciamo una media di 15 gradi ovest quindi con la rotta di 180 bisogna aggiungere 15 gradi quindi quanto fa 195 quindi sulla barca devi andare devi seguire la tua bussola 195 quindi dicono che sud per andare in Brasile ma dicono che la tua bussola è deviata e devi fare 195 quindi qui nel nostro esempio abbiamo la direzione di 180 più la declinazione magnetica di 15 gradi quindi fa un totale di 195 in pratica devi seguire sulla tua bussola sulla tua barca la direzione di 195 per andare da questo punto a questo punto ok ora sappiamo tutti che non siamo su una palla che gira nello spazio ma usiamo carte nautiche che sono realizzate sul modello del globo e mentre si utilizzano queste carte false arriveremo comunque alla giusta destinazione prendiamo la nostra rotta o la direzione di una mappa falsa del globo ma arriviamo comunque alla giusta destinazione loro quando dico loro sto parlando dei manipolatori che ci danno una direzione per andare dove vogliamo in base alla mappa falsa e arriviamo alla giusta destinazione sulla terra piana quindi c'è qualcosa da fare per la correzione della direzione nelle mappe false del globo e la realtà e c'è solo una cosa da fare per la correzione tra la mappa falsa e la realtà è la declinazione magnetica hanno aggiunto la pseudo declinazione magnetica per utilizzare le mappe false del globo ed essere ancora in grado di navigare o volare su un aereo nella realtà della terra piana non c'è assolutamente alcuna declinazione magnetica sulla terra piana tutte le bussole non deviano la navigazione ma funzionano perfettamente gli aghi della bussola ci mostrano sempre il vero nord magnetico ma tutte le carte sono false non avevano altra scelta che inventare una falsa declinazione magnetica per usare le mappe di una palla se prendiamo il nostro esempio capiamo che Recife non è là ma parti da qui e tu e fai sulla tua bussola 195 quindi 195 sono 15 gradi qui e tu arrivi qui quindi Recife in Brasile non è qui ma è qui Recife il Brasile è così quindi il Brasile non è qui ma in realtà è qui e se vuoi tornare da Recife in Brasile all'isola prendi la tua carta e la direzione sulla mappa è 0 gradi ok più la declinazione magnetica che è di 15 gradi quindi devi seguire la tua bussola sulla tua barca 15 gradi quindi 15 gradi da qui è così ma ricorda che non inizi da qui inizi da qui e da qui arrivi al posto giusto quindi funziona in entrambi i modi inoltre possiamo illustrare questo con questa palla gonfiabile da spiaggia come potete vedere per trasformare la la terra piana in una palla dovete gonfiare la la parte nord e poi bisogna allungare e deviare il sud ok e se osservate qui questa è l'Africa e questo è Recife quindi l'isola è qui e Recife è là ok anche qui vedete che sulla palla qui sulla palla si va dall'isola qui per Recife ma quando è piana bisogna andare più ad ovest se la trasformo in una terra piana abbiamo l'isola qui e Recife qui vedete qui si allontana verso ovest quindi questi sono i 15 gradi di declinazione magnetica con questo nuovo parametro invisibile della declinazione magnetica creano una dualità lavorano sempre in quel modo come con le stelle loro possono farvi credere che sono grandi lontane o piccole vicine il sole si muove o la terra si muove eccetera con la pseudo declinazione magnetica possono creare delle mappe false del globo e si possono comunque usare sulla terra piana perché la declinazione magnetica corregge la giusta direzione da prendere nella realtà ora vediamo qualche osservazione interessante a nord c'è un solo polo magnetico qui questo è il polo nord e al sud in antartide sotto la palla abbiamo due poli magnetici ok questo è per due buoni motivi primo sulla terra piana non c'è un continente sotto la palla quindi per mantenere l'illusione di una palla hanno messo un polo magnetico a sud qui e un altro qui come vedete qui questa è la penisola antartica penisola antartica proprio quindi proprio qui c'è la punta del sud america e dall'altra parte questa è l'Australia che è qui ok quindi per mantenere l'illusione della palla hanno messo al polo sud su ciascun lato della terra piana e la 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 seconda ragione o secondo motivo per il loro superfugio hanno bisogno di dividere in due parti la terra piana con la declinazione magnetica ad est e ovest vedremo questo più tardi ma questa è la terra piana ok qui c'è il sud america l'Australia Africa quindi per semplificare il grado zero qui e il grado zero qui ok e da questa parte la declinazione magnetica è est e dall'altra parte la declinazione magnetica la declinazione magnetica è ovest ok è blu è ovest e lo vedremo fra poco noteremo anche che gli unici due ingressi per il pubblico in Antartide sono vicini allo pseudo magnetico polo sud dove non c'è o c'è pochissima declinazione magnetica come potete vedere qui è vicina allo zero e anche qui è vicino allo zero è vicino all'assurdo polo sud magnetico dove non c'è o c'è pochissima declinazione magnetica o in altre parole in altre parole nessuna deformazione delle mappe rispetto alla realtà questo è veramente logico per consentire per consentire in questi due punti sia con il capitano che col passeggero in questo modo non riescono a vedere il sotterfugio possiamo anche notare che se seguiamo l'equatore l'equatore è qui su questa linea qui ok non c'è declinazione magnetica o è veramente molto piccola mentre c'è una grande declinazione magnetica a nord e una grande declinazione magnetica a sud perché è è l'area dove devono deformare la terra piana per trasformarla in una palla qui potete vedere che l'equatore qui non c'è molto non hanno bisogno di deformare molto all'equatore ma a sud abbiamo molta deformazione e anche a nord devono gonfiarlo per inventare qualche superficie al nord e allungare la parte sud del continente adesso vediamo la circonferenza della terra piana se vi trovate qui sulla punta del sud america diciamo il 55esimo grado di latitudine sud e volete rimanere su questa latitudine e fare il giro del mondo tutto attorno al mondo ok quindi qui il sud america è qui questo è il 55esimo grado di latitudine sud ok e iniziamo da qui come vedete per semplificare abbiamo la linea verde con la declinazione magnetica zero qui e ce n'è un'altra qui vicino all'Australia quindi iniziamo qui per fare il giro del mondo quindi andiamo verso est quindi l'est è a 90 gradi sulla nostra bussola e se iniziamo da qui e seguiamo la nostra bussola a 90 gradi perché non c'è nessuna declinazione magnetica un po' più avanti qui ci sono 10 gradi ovest quindi dovete aggiungere 10 gradi ai 90 gradi che fa 100 quindi sulla vostra bussola andremo da questa parte e dopo un po' un po' più in là abbiamo 20 gradi quindi è come questo e a 30 40 50 60 70 ok e fino a 60 gradi e poi la declinazione magnetica torna rapidamente a 0 gradi vicino all'Australia qui vedete che siamo a 0 gradi e noi siamo qui sulla 55esima latitudine sud poi 40 50 60 70 e dopo questo torna velocemente 60 50 30 e 0 gradi in questo punto quindi andiamo andiamo così vedete che hanno questa differenza qui di angolazione qui e anche qui per 60 gradi quindi andiamo così e molto velocemente torniamo a 90 gradi vicino all'Australia qui abbiamo 90 gradi qui e 90 gradi qui sulla palla ok e dall'altra parte la declinazione magnetica è est quindi qui devi sottrarre quindi qui è 90 90 ok ma adesso siamo dall'altra parte qui ci sono 10 gradi dopo sono 20 passano a 2 30 e si rimane a 30 da questa parte quindi è più o meno così credete credete di trovarvi sotto la palla sulla 55 latitudine sud ma in realtà in realtà sul mare non abbiamo alcun segno quindi seguiamo la nostra bussola e la nostra bussola mostra la giusta direzione praticamente facciamo un ellisse e come vediamo adesso è un ellisse non è un circolo perfetto come sulla palla è un ellisse quindi come sapete ci raccontano sempre l'opposto della realtà la narrazione ufficiale è che la terra forma un ellisse attorno al sole ma nella realtà è che il sole forma un ellisse sopra la terra piana ma il loro sotterfugio ha come limite che non funziona più sotto i 60 gradi di latitudine a sud come vedete qui sotto i 60 gradi si passa a 80 e 90 gradi di declinazione magnetica quindi si va troppo lontano in quella direzione ecco perché non abbiamo alcun permesso di andare sotto la latitudine sud di 60 gradi e abbiamo abbiamo i due poli sud da ambo i lati e adesso dobbiamo dimenticare l'Australia perché siamo sulla terra piana quindi la palla è simile a questo quindi l'Australia non è lì sulla terra piana e la punta del sud america non è così ok quindi abbiamo due punti magnetici il polo sud magnetico qui e qui ma non si adatta alla loro astuzia ecco perché non ci è permesso andare sotto i 60 gradi di latitudine sud questo qui devo cancellarlo velocemente questa è la circonferenza della terra piana crediamo di navigare in cerchio ma con la declinazione magnetica con la declinazione magnetica ci guida sull'ellisse attorno alla terra piana quindi qui abbiamo il polo sud magnetico qui e un altro qui ok quindi questo è il 55 grado di latitudine sud e non ci è permesso andare sotto il 60 grado quindi la nostra area è questa questo è dove possiamo andare in altre parole l'area per gli schiavi ma finito di disegnare la falsa declinazione magnetica sotto la palla è solo per cercare di dare un senso al loro sotterfugio nessuno può andare sotto i 60 gradi di latitudine sud e nessuno può andare là tranne chi ha una vera mappa della terra piana senza la declinazione magnetica come vedete con la finta declinazione magnetica possono cambiare la forma e la posizione dei continenti per trasformare la terra piana in un globo in conclusione dato che ci sono un sacco di cose da dire ci sono coincidenze molto convenienti riguardo alla declinazione magnetica e altre cose oppure osservare ma non voglio dilungarmi troppo quindi spero di avervi interessati io sono disponibile se volete fare qualche domanda ma come ho detto ci sono molte altre cose da dire su questo argomento grazie per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu su questo canale youtube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivise per tematiche le playlist le trovate anche su indice alfabetico contrassegnate da questo indicatore sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero su questo canale come sul secondo mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in auto carica viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore ma non impongo nulla ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento di indottrinamento di indottrinamento di indottrinamento di indottrinamento